Comandante, se dovessimo tracciare un bilancio delle attività del 2015 di questo anno che sta finendo, che bilancio sarebbe? È stato un anno senz'altro positivo, un anno che ha visto una riduzione a Gela dei reati che particolarmente creano allarme sociale, quali i danneggiamenti seguiti da incendio, i furti, c'è stato un calo addirittura del 60% delle rapine. Quindi è stato un 2015 all'insegna della prevenzione e il dispositivo di controllo del territorio ha senz'altro funzionato. Poi è stato un anno che per quanto ci riguarda è iniziato molto bene, con una bella operazione di servizio, l'operazione di SEA, che ha portato in carcere sette persone in esecuzione di un'ordinanza di custodia quadrare messa dal GIP presso il Tribunale di Caltanissetta per un'associazione disarticolata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Poi in primo grado già ci sono stati i primi esiti perché ci sono state anche combinate le condanne pesanti nei confronti delle persone che sono state arrestate. E poi è stato anche un anno che ci ha visto anche molto molto impegnato sul fronte appunto del contrasto ai reati commessi anche dai giovani, anche in un'ottica preventiva. Quindi segnalazioni numerosissime per articolo 75, per DPR 30990, quindi per l'uso personale di sostanze stupefacenti e anche alcuni sequestri di sostanze stupefacenti. Comandante, i due episodi che si sono verificati con delle sparatorie hanno fatto temere a molti che si potesse ripiombare negli anni bui degli anni Ottanta. Lei invece che idea si è fatto? Un episodio senz'altro grave, soprattutto quello di dieci giorni fa avvenuto in piazza. Stiamo lavorando intensamente, coordinati alla Procura Repubblica presso il Tribunale di Gela, sull'attività investigativa e su tutti quelli che sono i riscontri e speriamo di poter naturalmente portare dei buoni risultati e di riuscire ad addivenire l'identificazione degli autori dell'omicidio. Secondo lei su quali reati si dovrà continuare a lavorare intensamente in termini di prevenzione? Soprattutto sui giovani. Io in diverse circostanze ho incontrato gli studenti delle scuole medie di primo grado, delle scuole medie di secondo grado e anche grazie all'ausilio delle associazioni di volontariato ho fatto degli incontri con numerosissimi giovani, ai quali ho spiegato ad esempio il rischio dell'abuso di sostanze alcoliche, l'uso di sostanze stupefacenti, quali rischi dal punto di vista giuridico potranno comportare l'uso o l'abuso di queste sostanze. Soprattutto in un'ottica di prevenzione ho cercato anche di incontrare molti imprenditori, quelli della zona industriale di Gela, negli alcuni mesi vessati da alcuni episodi di furto e ho consigliato loro ad esempio il collegamento con il sistema di teleallarme al 112 ma di dotare degli idoni sistemi di difesa passiva che possano naturalmente consentire loro di proteggere il loro patrimonio ma soprattutto le attività imprenditoriali.